Parte finalmente il laboratorio del programma per Teramo voluto dal centro-sinistra con un incontro pubblico con i cittadini che parte giovedì prossimo. Noi facciamo sul serio, l'abbiamo detto un mese fa, abbiamo riunito questo gruppo di lavoro per Teramo per costruire un programma partecipato perché oggi solo con la partecipazione si superano le diffidenze dei cittadini nei confronti della politica. Abbiamo iniziato quindi non solo a creare dei gruppi di lavoro sui quali concentreremo le nostre iniziative in base ai temi ma soprattutto gireremo il territorio. Il primo appuntamento c'è il primo dicembre, insieme noi rappresentanti del centro-sinistra appunto del laboratorio del programma per Teramo incontreremo i cittadini di un territorio del comune, quello dell'Alto Tordino, quindi la frazione di Villa Ripa in particolare, quindi alle 6 e mezza sotto i portici del centro storico di Villa Ripa e anche gli abitanti di quel territorio, penso a Capuccio, Valle San Giovanni, Frondarola, insomma un incontro vero. Ecco tante saranno le tematiche affrontate e soprattutto ci sarà un confronto tra il vostro programma politico e poi quello anche del centro-destra, punterete magari il dito su problematiche avvenute in questi mesi anche sull'aumento delle tasse, ecco voi avete portato avanti uno slogan negli scorsi mesi, Teramo, benvenuti a Teramo, la città delle tasse. Sì, il nostro è un lavoro che ovviamente va avanti di giorno in giorno e devo dire che il dato politico è questo, è questa ritrovata unità, questa coesione politica ha dato i suoi frutti, ha fatto cogliere in fallo appunto l'amministrazione che su certe cose ha sbagliato e lo ha riconosciuto. Penso alla vicenda di Plasticarrabili, una vicenda iniqua che noi abbiamo grazie al nostro lavoro attento dei consiglieri comunali abbiamo sventato. Penso anche per esempio alla vicenda della farmacia comunale dove la partecipazione è stata determinante, raccolta di firme passo indietro dell'amministrazione. Perché noi per esempio, non è che la vogliamo fare a collaterrato perché ci piace un posto rispetto a un altro, perché vogliamo trasformare un quartiere dormitorio in una comunità, che è questo il dato appunto significativo sul quale centriamo il discorso della partecipazione. Stiamo preparando l'alternativa, vogliamo farlo veramente insieme alla cittadinanza con largo anticipo, il tempo che ci vuole per essere credibili.